Anche oggi abbiamo visto una maggioranza divisa, spaccata su tanti temi. Innanzitutto per eleggere il garante dell'infanzia. Dopo quattro votazioni la maggioranza non è riuscita ad eleggere il nuovo garante dell'infanzia. Si dovrà ripetere alle prossime sedute di Consiglio regionale. E poi le tante assenze, sia in Commissione e sia in Consiglio. E poi la mancanza di comunicazione tra i Presidenti di Commissione e il Presidente del Consiglio regionale. Attività che si sovrappongono e si accavallano mettendo in difficoltà sia i consiglieri e sia i tanti auditi delle Commissioni. Oggi è successo tra la terza Commissione che era in corso e nello stesso tempo anche l'Ufficio di Presidenza era in corso. E ovviamente le minoranze non hanno potuto partecipare all'Ufficio di Presidenza. Questo è stato un atto gravissimo, scorretto nei confronti delle opposizioni. E poi abbiamo visto la legge Curabruzzo, la prima legge Curabruzzo, già osservata fortemente dal Governo, dai Ministeri competenti, a cominciare dalla vicenda complessa dei Prati Pascolo. Ovviamente sono leggi manifesto, sono leggi copiate a livello nazionale e soprattutto indicati dal duo Salvini-Meloni, che vengono fotocopiate, stampate e promulgate nella nostra regione, ma poi incontrano le difficoltà ovviamente degli uffici del Governo, ma soprattutto dei cittadini abruzzesi e in questo caso degli agricoltori e dei pastori abruzzesi. E poi le leggi non condivise, non solo con la minoranza, ma soprattutto con i cittadini, con gli ordini professionali, con le parti sociali. 16 sigle da Confindustria, UGL, CGL, CISL, UIL, Confcommercio e Confartigianate hanno detto no con forza a questa legge approvata appena una settimana fa dal Consiglio regionale, tant'è che tutte le parti sociali hanno indetto lo Stato di mobilitazione generale.